Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e siamo tornati su Fall Guys, signori miei, siamo ancora alla ricerca della prima vittoria ora non so se nella live sarà successo qualcosa di interessante, saremo riusciti a vincere, ma ora come ora quando sto registrando questo video non so, effettivamente non abbiamo ancora raggiunto nessuna vittoria con la nostra tic tac verde e nera forza sassuolo signori miei, se ti fate sassuolo, hashtag forza sassuolo, vabbè così, tanto per dire detto questo ragazzi, prima di partire col video e con l'avventura della nostra tic tac, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti per le condivisioni di questo video e per il supporto che date a questa serie, al mio canale vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate il link per fare tutto quanto la barata in descrizione al video detto questo non partiamo a tempo e partiamo col video di oggi ci siamo signori, primo video di Wearlink, quello delle ali, quello delle ali, che dobbiamo fare, dobbiamo volare quello delle eliche, allora lo sappiamo fare, lo sappiamo fare, anche se l'ultima volta abbiamo fatto una figura proprio bruttissima forse neanche ci siamo qualificati se non ricordo male, però forse ci siamo arrivati a pello a qualificarci partiamo in prima fila, dai, non si scherza oggi raga, non si scherza, sto subcomitando con la videocamera dai, 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 non mi interessa arrivare prima, non mi interessa arrivare prima mi interessa arrivare, mi interessa arrivare, ecco perché parlo, perché parlo dico io, dico io, dai, così salta, bravo, bravo, questo è doppio, questo è doppio, saltalo, bravo no, 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 bravo così, la nostra tic tac verde nera, la nostra tic tac verde nera Mamma mia, non ce n'è per nessuno, raga Non ce n'è per nessuno Dai, dai, sali di qua, sali di là, bello L'ho detto, oggi non ce n'è per nessuno, raga Oggi non ce n'è per nessuno, oggi arriviamo in finale Oggi sono gasatissimo, raga Sono gasatissimo, oggi non ce n'è per nessuno Oggi arriviamo in finale, dai, 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 dai Dai, 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 dai così, dai così Ancora non si è qualificato nessuno Ancora non si è qualificato nessuno, bravo Così, le tempistiche Le tempistiche, dobbiamo passare di qua Per forza, dobbiamo passare di qua per forza Dai, dai, no Meno male devo passare di lì per forza Meno male che mi sono detto devo passare di lì per forza Non facciamoci cretinate, ok Segui la telecamera, bravo Segui la scia, grande La nostra tic tac, no ma dai Ma dovevi saltare, ma brutta Rincretinita di una tic tac Levati zio, levati che passo io Levati che passo io, occhio, 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 grande così Mi fate saltare Ma dai, dai Mannaggia a me Quando dico che sono a carico, mannaggia a me Quando dico che sono a carico, raga Mannaggia a me quando dico che sono a carico Devo riuscire a passare, devo riuscire a passare, devo riuscire a passare Ok, è andata, quel tizio mi voleva fregare Ecco, secondo me quel tizio mi voleva acchiappare Trenta, dai che ci siamo, dai che ci siamo Questi stanno a fare la lotta fra di loro, trentatresimo Va bene, va bene, trentatresimo Va bene, mi sta bene, raga, l'importante è la passata del turno L'importante è la passata del turno Dai così Trentanove Trentanove Questo sta a cascare di sotto, e lo sapevo che cascava di sotto Quarantadue, round over, signori miei Il primo livello è passato Il primo livello l'abbiamo passato Va bene, abbiamo avuto un attimo di Pazzia a metà livello Però siamo riusciti a passare Siamo rimasti in 42, vediamo qual è il prossimo livello Raga Prossimo livello, gate crash Ok, in quello delle porte che si alzano e si abbassano Questo è Tutto un gioco di timing, signori Però lo possiamo fare, ce la possiamo fare Ce la possiamo fare, io credo in te Tic tac, dai così Dai così, dai così, dai così, fall guys Dai così, dai così, partiamo in ultima fila Mannaggia Se partiamo un po' più avanti Dai dai dai, superali Superali Occhio al timing, occhio al timing Occhio al timing Passati qua, passati qua Ok, la prima è andata La prima è andata, non con qualche sofferenza Passati qua Grande, grande la nostra tic tac Allora quella lì sale Dai che scendi, dai che scendi, dai che scendi Mentre noi passiamo Grande, stiamo recuperando la grande Raga Stiamo recuperando la grande Tu, deve scendere questa Ma annaggia Dai 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 No Ma porca Scendi, scendi porta Scendi Guarda che questa Questa è salita otto volte Praticamente Ma va Ma va Fa un bagno al romano Praticamente Dai 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 Ok Forse stiamo recuperando Forse stiamo recuperando Occhio allo slime Occhio allo slime Occhio allo slime No, ma come No Ma me No No Ma ci sono rimasto troppo male Raga Ma in quanto passavano? In quattro praticamente No Ci sono rimasto troppo male No No Ci sono rimasto troppo male No 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 Dai No No Non è giusto Ma cosa ci sorridi Tic tac Abbiamo fatto una figura bruttissima Vabbè Dai Prepariamoci per il prossimo round Dai 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 Prossima partita Prossima partita Ci siamo di nuovo Ci siamo di nuovo Raga Ci siamo di nuovo Di nuovo Quello delle eliche Quel livello delle eliche Dai Mamma mia È bello che me la sentivo calmi Sono scoraggiato Raga Ero carico Nel livello precedente Nell'avventura precedente Pensato di riuscire a distruggere tutto Arrivare in finale Invece niente Proprio Uno schifo Terribile Va bene Vediamo Proviamoci Proviamoci Dai Partiamo ultimi Mamma mia Partiamo proprio male Raga Questo livello parte proprio male Partiamo ultimi In un livello In un livello difficile Comunque Perché c'è tutto un discorso Di queste pale Che rompono le scatole Troppa confusione Troppa confusione Dai 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 Qualcuno già è volato via Qualcuno è volato via Dai così Dai così Non mi rompete le scatole Mannaggia a voi Mannaggia a voi Salta Brava tic tac Brava tic tac Bravo così Buono così Dai 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 Non ti fare buttare la terra da qua nessuno Vai 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 tic tac No Mamma mia che palata Che si è presa in faccia La smettiamo cortesemente Qualcuno mi leva dalla traiettoria della pala Grazie Gentilissimi Poi vado a passare la pala Ok Voglio passare io Ok Ce l'abbiamo fatta C'è stato un attimo di Di impalamento Praticamente Signori che non riusciamo a liberarci Ai 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 Ancora Una testata terribile Dai così dai così dai così dai così Ancora non si è qualificato nessuno Raga Ancora non si è qualificato nessuno Grande l'accelerazione Riusciamo a passare di qua Allora se riusciamo a passare qua E' tanta roba Se riusciamo a passare di qua E' tanta roba No no Di pochissimo Di pochissimo Siete dei bastardi In 5 ci sono qualificati Io non demordo Non demordo E passo di lì E invece facevo meglio a demordere No Mi sono lanciato nel vuoto No riparto da lì Perché riparto da lì Mamma mia Che gioco bastard No no Bello 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 Quanto meno siamo riusciti a passare Il checkpoint Ecco io poi cado come un Come un Come un Come un p Come un p grande Come un grande p Praticamente In 25 In 25 Occhio dai In 27 Devo riuscire a passare Devo riuscire a passare Dove Dove è la pala Non ho già Io non ce la faccio più adesso Dove è Dove è Ok Dai 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 Adesso non ha più Adesso non ha più Adesso non ha più Ma è più Ma è più Ma è più Ma è più Dai 38 38 38 38 40 Posso essere il 43 41 Dai dai No 42 Il tizio mi ha fregato Il tizio mi ha fregato Eh bababa Porca Quando una cosa nasce storta Deve finire storta Per forza Ragazzoli Niente Purtroppo Questo livello è andato Sto video è andato proprio male Mamma mia Sto regredendo I primi video andavamo bene Andavamo pure in finale Ora stiamo regredendo In una maria paurosa Comunque Detto questo Dopo questa bruttissima figura Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo Oh abbiamo raggiunto Il prossimo episodio Ok Non so cosa sia No? Però va bene Detto voi sogni miei Grazie per aver guardato Questo video Grazie per il supporto Per i like Per i commenti Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao